Cosa fa pizzeria la sera? Forse anche qualcun altro che non vorrei mandare la pizza che vi ho mandato io insieme Eh no, se non troviamo io, se non andiamo là, ma sono una roba che non fanno tutto Eh, perché per me è differente, è proprio nulla No, ma se nemmeno per me sono tutte le due, tutte le due sono pizzerie No, ma si fanno anche i ristoranti Sì, perché lei non venisse, però vediamo tutti